Grande fratello VIP 2022-2023 12 gennaio 2023 21 e 54 Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli parlano del loro rapporto. Lui sbotta. Hai già rotto i cog asterisco Lioni? Quando mi dici che oggi sei carino con me e domani non sai se lo sarai mi metti ansia. Le parole di Oriana Marzoli hanno fatto sbottare Daniele Dal Moro che si è alzato di scatto ed è andato via. Mi hai già rotto i cog asterisco Lioni? Dopo la lite per Nicole Murgia. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande fratello VIP 2022-2023. Attiva gli aggiornamenti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in serata si sono confrontati a lungo. a presto. A presto. a presto. a presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Credeva che stessero parlando di lei Li ha così interrotti Devo dire una cosa Non riesco a trattenermi Stavamo parlando Te ne sei andato Pensavo che steste parlando di me Dal Moro ha così chiesto alla venezuelana Di rientrare in casa Ho freddo Una volta rientrati il VIP ha spiegato alla sua inquilina Io ero uscito fuori e mi ha raggiunto Chiacchieravamo, niente di più